Primo giorno di scuola per il Catania che dopo il raduno di ieri da oggi inizia ufficialmente il ritiro a Torre del Grifo. Capitambi, agenti e compagni saranno in 29 agli ordini di Cristiano Lucarelli che ha diramato una lista di convocati corposi in attesa di novità in arrivo dal mercato. I rossatori cominciano quindi il cammino verso il nuovo campionato che scatterà il 27 agosto con un bagaglio di speranza legato alla promozione in Serie B. Un obiettivo difficile ma che per molti aspetti sembra alla portata sebbene ci siano almeno due concorrenti agguerritissime come Lecce e Trapani. Certamente sarà determinante come sempre il contributo che sarà dato dai tifosi che già da due giorni hanno iniziato a rinnovare l'abbonamento e al momento sono circa 150. Nel frattempo va avanti anche il mercato con il Catania che tiene Aia sempre nel mirino e a breve dovrebbe sbloccare la trattativa che vede il centrale dell'Andria già d'accordo con i rossazzurri ora alla ricerca dell'intesa con la società pugliese. Restano da risolvere poi le posizioni di Poz e Boncalilla e Rossotto con i primi due ormai destinati certamente all'addio e il terzo intenzionato a convincere a tutti i costi il Catania a tenerlo malgrado non rientri più nei piani tecnici. Alla finestra per lui c'è il Padova che ha offerto Alfagemme come pedina di scambio ma di sicuro nei prossimi giorni si capirà se davvero il Catania lascerà andare Rossotto o farà dietro fronte perché scosso da questa sua voglia di riscatto.